Buongiorno a tutti, vi parlo qui dal Ministero e voglio rivolgermi ai ragazzi e alle ragazze delle classi terze della secondaria di primo grado, quella più conosciuta come terza media. Quindi parlo a loro, ma naturalmente alle loro famiglie e ai loro docenti, che potranno far vedere questo video. Ragazzi, si parla tantissimo in questi giorni sui giornali onetg dei vostri fratelli più grandi, degli studenti dell'esame del secondo ciclo, quella che tutti chiamano ancora la maturità. Ed è normale, perché l'esame è che chiude il percorso scolastico e porta i ragazzi nel mondo adulto. Però io credo che dobbiamo dedicare la stessa attenzione anche a voi, che state per concludere il primo ciclo e vi preparate a fare un grande salto e ad entrare nella scuola dei grandi. Voglio darvi le informazioni necessarie per la conclusione del vostro percorso. Entro il termine delle lezioni sarà organizzato un momento online, quindi a distanza, per la discussione di un elaborato. L'argomento lo sceglierete insieme ai vostri docenti. Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, assegnazione e valutazione di questo lavoro da preparare a casa avverranno naturalmente sulla base del piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato. Siete tutti naturalmente in grado di affrontare questo passaggio e i vostri insegnanti vi staranno vicino e vi guideranno come sempre. L'esame è vero e proprio quest'anno coincide con lo scrutinio finale, ma abbiamo scelto di introdurre la discussione dell'elaborato anche per consentirvi un momento finale di confronto e se volete di saluto con i vostri docenti. Non lo sottovalutate, state per terminare un triennio molto importante ed è giusto chiuderlo nel modo migliore. Riguardo alla valutazione poi funzionerà così. Gli insegnanti di classe si riuniranno sempre a distanza per lo scrutinio finale. La loro valutazione di fine anno si baserà su quanto avete fatto nel vostro percorso scolastico. Si terrà conto anche della discussione dell'elaborato come opportunità per dimostrare quanto avete appreso. State perciò tranquilli, nessuno sarà penalizzato. Questo è stato un anno certamente diverso anche nella sua conclusione. Lo ricorderemo nel tempo, ma so che state facendo la vostra parte. Sono fiera di voi e ci tenevo a dirvelo. La scuola è il vostro mondo e tornerà presto quella di sempre. Continuate ad impegnarvi e ad ascoltare le vostre famiglie e i vostri docenti, che ringrazio tantissimo per essere stati davvero al vostro fianco. Ragazzi, continuate a scrivermi. Vi leggo anche le vostre critiche, i vostri dubbi. Continuate a farlo, a mandarmi messaggi e sollecitazioni. Anche questo è un modo per dimostrare che avete appreso dalla scuola la lezione più grande, come essere cittadini consapevoli dei propri diritti. Ancora grazie ragazzi, a presto.